Stiamo giudicando il fatto se ha fatto due passi in più o se ha fatto due passi in meno. Non stiamo giudicando il fatto che in questo paese ci sono tre rumeni che prendono, scavalcano una cancellata, sradicano una finestra e entrano in un'abitazione privata per rubare. Questa è la situazione che noi viviamo. Allora, siccome c'è questa situazione, io penso che quella persona sia assolutamente legittimata a difendersi. Noi non possiamo giudicare la vittima del reato, ma dobbiamo giudicare i delinquenti. Allora, siccome i delinquenti in questo paese non finiscono più in galera, in questo paese non vengono più espulsi se sono stranieri, questa è la situazione che stiamo vivendo. Il Far West non lo vuole la Lega, il Far West l'ha creato questo governo.